Le ragioni dei Sarawi, popolazione autoctona della zona del Sahara occidentale, che da anni chiede il riconoscimento degli stati europei, sono state illustrate a Palazzo Lascaris da Fatima Mahfoud, ambasciatrice in Italia del fronte polisario e della Repubblica Araba Sahara Democratica. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Nino Boeti, l'ha incontrata insieme all'assessora alla cooperazione internazionale Monica Cerutti e al consigliere Domenico Rossi.